E' meraviglioso ritrovarci in questa piazza dopo un anno di pausa e riprendere le nostre manifestazioni. Fra l'altro nel 2020 cadevano i 500 anni dalla nascita di Galeazio di Tarsia ed è stata una sofferenza per noi non poter festeggiare degnamente questa ricorrenza. Quest'anno siamo particolarmente felici di aver ripreso il premio. Lo siamo anche perché abbiamo due ospiti veramente importanti questa sera. Il professore toscano, già professore associato di letteratura italiana all'Università di Napoli Federico II e Giuseppe Garidi, il presidente della deputazione di Storia Patria. Quindi per noi è veramente un onore avere queste due personalità e sicuramente stasera assisteremo a degli interventi interessantissimi. Fra l'altro abbiamo anche un gruppo musicale, il Tchaikovsky Jazz Quindet, molto ma molto bravi, che sicuramente aglieteranno la serata e faranno ascoltare dell'ottima musica al pubblico presente. In più, in aggiunta, c'è Nando Brusco, un cantastorie bravissimo che reciterà alcune delle rime di Galeazio di Tarsia. Grazie a tutti!